Ciao a tutti ragazzi e ragazze, è nata la pagina Facebook del forum sito Pokémon in Italia Linfo, cercateci per essere sempre informati e aggiornati su tutte le novità e le curiosità del mondo dei Pokémon, sia per la lingua italiana che per quella estera, con tante rubriche e anteprime inedite, che cosa state aspettando? Trovate il link nella descrizione del video, vi aspettiamo! Grazie a tutti!